Una complessa attività finalizzata monitorare invece i veicoli in transito lungo le principali arterie autostradali e quelle di grande comunicazione. Questa è l'operazione che la Polizia di Stato ha messo in campo, supportata da unità cinofole e team di elicotteristi, utilizzando anche un apparecchio per analizzare a distanza la scatola nera dei mezzi pesanti senza necessità di fermarli. In campo 300 pattuglie, circa 3.000 veicoli controllati e quasi 3.500 invece le persone identificate con più di 1.000 infrazioni accertate. In particolare a causa della pandemia, diversi conducenti di mezzi pesanti per compensare i minori incassi hanno guidato per un numero di ore maggiore rispetto a quelle consentite, facendo concorrenza sleale, creando gravi rischi per la sicurezza della circolazione stradale.